Endel Oves Anticipazioni, che riprendono le puntate, che andranno in onda dal 2 al 4 settembre. Emir si risveglia dall'intervento chirurgico senza sensibilità in una gamba e crolla a terra. Impotente. Nihan decide di informare Kemal della sua gravidanza, mentre Kemal viene collocato in una cella di isolamento, dove diventa il bersaglio delle guardie penitenziarie. Emir riesce a sopravvivere e si risveglia dopo l'intervento chirurgico, pronunciando per primo il nome di Kemal. Galip, seduto accanto al figlio lo tranquillizza affermando che Soidere ha ricevuto la sua punizione ed è attualmente in prigione, lo informa che tuttavia hanno perso sia Ozan che Onder. Emir domanda immediatamente di sua moglie, poiché teme che ora che è libera possa scappare. Vuole andarsene da quell'ospedale senza indugi, ma è ancora molto debole e i dolori lo trattengono. Nel frattempo, Nihan e Ef sane accompagnano Vildan all'uscita dell'ospedale, dove trovano Leila ad attenderle. Leila guarda Vildan e le dice che è venuta per riportarla a casa. Aggiunge di aver pulito il pavimento con acqua e lavanda e di aver messo le lenzuola di raso nella sua stanza preferita. Prosegue, affermando che finché sarà in vita, Vildan non sarà mai sola. All'udire queste parole, Vildan si lascia andare a un pianto disperato, abbraccia sua sorella e le confida che Onder e Ozan non ci sono più. In prigione, Kemal viene attaccato da un detenuto con un coltello mentre si trova sotto la doccia. Grazie alla sua prontezza, Kemal percepisce il pericolo e riesce a bloccare l'aggressore gettandoli dell'acqua calda sugli occhi. Sebbene riesca a scappare il leso, non riesce a evitare l'intervento delle guardie, che lo considerano comunque responsabile per quanto accaduto. Di conseguenza, lo conducono in una cella di isolamento, dichiarando che è riuscito a creare problemi nel suo primo giorno all'interno della struttura. Zeynep si risveglia in un letto d'ospedale e chiede all'infermiera che la assiste cosa sia successo. La dottoressa entra, eppur non esprimendo chiaramente la situazione, le fa comprendere che, dopo essersi svenuta, ha perso il bambino. Tuttavia, la rassicura sul fatto che è giovane e avrà altre possibilità di portare a termine una gravidanza. In preda alla disperazione, Zeynep inizia a urlare, mentre la dottoressa fa un gesto verso un'infermiera al di fuori della stanza di somministrarle un tranquillante. Nel frattempo, in auto, Leila sta accompagnando Nian e Vildan verso casa. Quando il telefono di Nian inizia a suonare, vede che è una chiamata di Galip e decide di rispondere. Rimane sorpresa quando dall'altro capo sente la voce di Emir, che le dice di aver superato la morte e che da quel momento nulla lo fermerà. Emir continue dicendo a sua moglie che, finché non tornerà, deve occuparsi di se stessa e della vita che ha in grembo, insinuando di conoscere il suo segreto. Poi le chiede dove si trova, ma Nian non risponde. A quel punto, Emir le comunica brevemente che, dopo la morte di Ozan e Onder, le loro vite sono ancora più connessa e termina la chiamata. Poco dopo, Emir riceve la visita di Tufan in ospedale. Tufan gli chiede cosa sia successo a sua madre, ma Emir, senza dare una risposta, lo invita a controllare di persona e Tufan si allontana di corsa. Nel frattempo, Kemal deve affrontare lo shock psicologico di trovarsi rinchiuso in una cella angusta e inumana. Ha già compreso che le guardie eseguono gli ordini di qualcuno dall'esterno. Nihan e Vildan tornano a casa di Leila. Nihan è molto angosciata e, dopo la telefonata di Emir, cerca di incoraggiare sua madre a lasciare la Turchia, per andare a vivere il più lontano possibile per iniziare una nuova vita. Tuttavia, Vildan fa fatica a lasciare la città dove sono sepolti Onder e Ozan. In ospedale, Emir viene visitato da un dottore, che esamina la gamba che non risponde agli stimoli. Il medico gli spiega che il proiettile ha danneggiato la spina dorsale, compromettendo così la sua capacità di movimento. Emir è sopraffatto dalla disperazione al pensiero di non poter mai recuperarsi completamente. Si sforza di alzarsi dal letto, ma non riesce nemmeno a compiere un passo e crolla a terra, impotente. Galip e il medico cercano di rassicurarlo, affermando che potrebbe trattarsi di una situazione temporanea. Inoltre, il medico rivela che il proiettile che ha colpito la spina dorsale è stato lasciato dentro per volere di Galip, che ha preso questa decisione durante l'intervento. Kuskoglu, in preda alla disperazione, si scaglia contro il padre, affermando di non poter vivere con un pezzo di Kemal dentro di sé. Tufan arriva a casa di sua madre. Esplora varie stanze, e non trovandola, teme di averla persa per sempre. Si lascia andare, e comincia a piangere, ma viene consolato dalla madre, che era stata liberata dagli uomini di Emir. Contemporaneamente, Zeynep viene portata fuori da Akan, la gente che sta indagando sul caso di Emir e Ozan. L'uomo inizia a farle diverse domande per scoprire i dettagli su cosa abbia portato alla morte di Ozan, insinuando che il giovane possa aver compiuto quel gesto estremo a causa di qualcosa che riguarda proprio lei. Zeynep nega con fermezza, e rimprovera il commissario per le sue domande inappropriate. Tuttavia, lui insiste, dicendo che lei aveva con sé una somma considerevole di soldi nella borsa e che si trovava al terminal degli autobus, lasciando intendere che avesse intenzione di scappare, scossa! Zeynep non risponde alle sue domande. In quel momento, arrivano i suoi genitori insieme ad Asu e Tariq, che le chiedono cosa sia successo. Zeynep non racconta a nessuno di loro che ha perso il bambino, limitandosi a dire che è svenuta. Poi chiede di Kemal, e Fehim la invita a contattare sua suocera. Non appena sente la voce della nuora, Vildan le chiede di raggiungerla a casa di Leila, perché ha delle questioni urgenti da discuterle. Una volta arrivata a casa di Leila, Vildan le dice di prendersi cura di suo nipote, perché è l'unica cosa rimasta di suo figlio Ozan. Nian, che ha tutta la intenzione di lasciare il paese, contatta Zeyr, e gli chiede di aiutarla a incontrare Kemal, il quale che comincia a sentire sempre di più il peso del tempo trascorso in prigione. Zeyr accetta la richiesta di Nian e si dirige verso il penitenziario. Tuttavia, all'arrivo, incontra Asu, che aveva già cercato di visitare Kemal, ma senza successo. Poco dopo, Nian arriva in prigione e parla con il direttore del penitenziario e riesce a convincerlo a autorizzare un incontro non registrato con Kemal, sostenendo che sia necessario per rafforzare la posizione di suo marito Emir. Aggiunge anche di essere a conoscenza del fatto che il direttore lavori per suo marito e che il cognome Kuskoglu ha rilevanza anche in quella prigione. Nel frattempo, nella cella di isolamento, Kemal è infastidito da alcuni raggi di sole che gli colpiscono il viso, evocando ricordi di momenti felici trascorsi con Nian. Per evitare di essere disturbato dalla luce, mette un cappotto nella piccola finestra. Una delle guardie entra nella cella e cerca di rimuovere il cappotto, ma Kemal gli urla di non farlo. Ne scaturisce un breve conflitto, dopodiché arrivano altre due guardie e insieme picchiano Kemal con i pugni e i bastoni che hanno. Il pestaggio viene interrotto da un'altra guardia che arriva e annuncia che il prigioniero è stato convocato per una conversazione con Nian Kuskoglu. Nel frattempo, Nian sta aspettando Kemal nell'ufficio del direttore del penitenziario e immagina il loro incontro, durante il quale gli dirà che stanno per avere una bambina. Kemal, felice di ricevere la notizia, la abbraccia e le dice quanto le manca. Tuttavia, le sue fantasie vengono interrotte dal comandante della prigione, che le comunica che Kemal non desidera vederla. Nian esce dal carcere arrabbiata, dicendo che forse Kemal non merita di sapere la verità, visto che non si è fatto vedere. All'uscita viene accolta da un vero e proprio assalto di giornalisti, informati chiaramente da Asu, che le chiedono se è rimasta incinta di Emir Kuskoglu. In un primo momento, Nian appare turbata dalla domanda, ma poi comprende che questa potrebbe salvarla da ulteriori complicazioni e conferma ai giornalisti di aspettare un bambino da Emir. Così si chiude l'episodio di giovedì. Ma non perdete i prossimi video, perché nell'episodio di venerdì sera, che andrà in onda in prima serata, ci sarà un salto temporale di un anno e Kemal uscirà di prigione deciso a mettere in atto la sua vendetta.